Da sempre orgogliosa della sua università, Ferrara ha cercato in quest'ultimo decennio di creare una relazione sempre più stretta con Unife, entrando a far parte della rete Unitaun e aderendo al protocollo d'intesa siglato nel 2015 tra l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia e la Conferenza dei Rettori. È di oggi la mozione del gruppo consigliare del Partito Democratico che, confermando questa alleanza, propone a Sindaco e Giunta di realizzare un protocollo d'intesa con Unife per afforzare, dicono i consiglieri, l'integrazione fra città e università in vista del miglioramento della qualità della vita di tutta la cittadinanza. Unife non solo è un importante volano economico per il territorio, dice la mozione, ma rappresenta con i suoi iscritti e docenti un vero e proprio patrimonio in termini di capitale culturale e umano per la città che a sua volta diventa un importante protagonista dell'accoglienza e del supporto alla vita universitaria. Ma la proposta dei consiglieri PD va oltre e chiede di promuovere anche un tavolo tecnico tra Comune e Unife per individuare aree della città da rigenerare e mettere a disposizione dell'università e dei servizi agli studenti, che quest'anno hanno risposto numerosi, 6.000 in più gli iscritti rispetto all'anno scorso, all'offerta didattica di Unife grazie anche all'eliminazione del numero chiuso in alcuni corsi di laurea. Per rendere più evidente questo rinnovato rapporto tra Ferrara la sua università, i consiglieri del PD chiedono di convocare la Commissione Statuto per inserire l'espressione città universitaria nello statuto stesso del Comune di Ferrara.